Andrea, rotazione in casa New Balance per atleti evoluti sotto i 75 kg? Allora, le 880 per me, le Rebel e le RC Elite. Perché non le 1080? Perché odio amore, quindi vado con le 880. Perché non le TC al posto delle Rebel 2? Ma guarda, lì era indifferente, però ne dovevo scegliere una delle due, le Rebel sono più fighe da vedere. E costano anche di meno. E perché invece le Elite non le TC per le gare? Perché sono super le Elite, quindi andrei con quelle. Va bene, grazie Andrea, non abbiamo ancora fatto la recensione, stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima, iscrivetevi al canale. Ciao!